Una volta essere intolleranti al glutine voleva dire non poter mangiare fuori casa. Oggi fortunatamente non è più così, perché molti ristoranti hanno incominciato a venire incontro alle esigenze dei celiaci che si sono rilevati essere sempre più numerosi. Londra ovviamente non è rimasta indietro su questo fronte, perciò chi soffre di celiachia può tranquillamente godersi un pasto al ristorante. In questo video quindi ti suggerisco 5 ristoranti in cui i celiaci non avranno alcun problema. Al quinto posto troviamo Nopi. Lo troviamo a Soho ed è gestito da un critico enogastronomico di fama internazionale ed offre vari menù senza glutine che tendono alla fusion tra la cucina israeliana e quella mediterranea. Da provare anche se non si è celiaci. Al quarto posto c'è Olleis. Si trova vicino a Brookwell Park e a Henry Hill. Questo locale è una vera e propria istituzione per i piatti a base di pesce. La politica Olleis è basata sulla sostenibilità. Ogni lunedì e martedì c'è il Fish and Chips Gluten Free. Se hai voglia di sapori della cucina indiana fermati al Namaste Kitchen che ho posizionato al terzo posto. Si trova tra Camden Town e Prime Rose Hill che vanta stile, ospitalità ed atmosfera. Qui troverai diversi menù modellati appositamente sulla filosofia gluten free. Dal salmone al pandore, dal basmati a varie salse. E al secondo posto c'è Honest Burgers. È una piccola catena di locali made in London, posizionati in varie zone della capitale inglese. Come avrai capito, sono specializzati in hamburger. Ed ogni panino viene servito con patate e rosmarino fatte in casa. I panini senza glutine sono disponibili presso tutte le sedi. Basta chiedere al momento dell'ordine. Sono sicuro che ti piaceranno tantissimo. Ed infine non potevo non concludere con qualcosa che necessariamente sa di terra mia. Al primo posto quindi troviamo Cotto. Cotto è un angolo d'Italia nel cuore di Londra. Dove con un po' di preavviso potete trovare moltissime possibilità gluten free dal sapore tutto italiano. Cotto si rivolge espressamente ai vegetariani e ai celiaci. Se sei alla ricerca di una buona pizza senza glutine a Londra, Cotto è il posto giusto che stai cercando. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se stai guardando questo video su YouTube. Oppure se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao!